Buonasera, bentornate ad Abruzzo Village, un viaggio e trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Il Forum H2O ha presentato un esposto alle procure di Teramo e l'Aquila per segnalare varie irregolarità nelle captazioni acquifere del Gran Sasso che sono troppo vicine ai laboratori di fisica nucleare. Sono troppo alti i rischi che corre l'acqua del Gran Sasso a causa delle tante sostanze pericolose utilizzate dai laboratori di fisica nucleare. Ne è convinta l'associazione Forum H2O, che ha inviato un esposto agli enti competenti e alle procure di Teramo e l'Aquila sulla questione delle captazioni acquifere troppo vicine ai laboratori e sul recente episodio di contaminazione di diclorometano, per quanto banale e sotto i limiti previsti dalla legge. Che cosa denunciate? Molte criticità, omissioni inadempienze rispetto alla questione delle captazioni dell'acqua nei laboratori del Gran Sasso. In primo luogo che quelle captazioni sono irregolari, secondo la legge, perché nei laboratori sono stoccate più di 2.000 tonnellate di sostanze pericolose e addirittura vengono state sostanze anche radioattive e questo è vietato dalla legge vicino ai punti di captazione. Quindi o bisogna trasferire alcuni esperimenti, non tutti chiaramente, ma alcuni esperimenti che sono incompatibili con la vulnerabilità del sistema, oppure bisogna chiudere le captazioni. Non c'è una terza via. L'aspetto grave è come è stato gestito anche il problema del diclorometano nell'acqua. Le analisi sono state scarse, poco frequenti e le poche che abbiamo, è vero che sono sotto i limiti di legge per quanto riguarda la potabilità, ma sono superiori ai limiti di legge per quanto riguarda la protezione delle acque sotterranee. Sono limiti purtroppo diversi in base alla legge, ma nessuno ha comunicato, almeno ci risulta, agli enti competenti che lì c'è stata una contaminazione delle acque sotterranee oltre i limiti di legge. Ripeto, dentro però i limiti della potabilità. Intanto la regione Abruzzo fa sapere attraverso l'assessore Giovanni Lolli di voler individuare nuovi punti di captazione delle acque nel Gran Sasso, mentre i laboratori di fisica nucleare annunciano il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e l'acquisto di un nuovo spettometro per la misurazione di fumi nocivi. Ma l'associazione Forma H2O ne fa una questione di principio e chiede di delocalizzare alcuni esperimenti e di ridurre progressivamente la presenza di sostanze tossiche all'interno della montagna. Ipotizza anche scenari apocalittici, che sembrano però un po' fantascienza. A Teramo il numero degli sfollati ha raggiunto quota 3.900. L'Ufficio regionale della ricostruzione ha protocollato fino ad oggi mille pratiche, mentre ne restano da esaminare oltre 4.000 per l'intero cratere Teramano. Il numero degli sfollati a Teramo a causa del sisma continua a salire. Oggi siamo a quota 3.900 e le ordinanze di sgombero del Sindaco non si fermeranno qui, visto che nella sola città di Teramo sono ancora circa 700 i sopralluoghi da effettuare. L'Ufficio ricostruzione regionale, che è ancora collocato nel Palazzo del Genio Civile in attesa di trasferirsi nei locali del Parco della Scienza, ha già protocollato mille pratiche, mentre sono 5.000 complessivamente quelle pervenute da tutto il cratere Teramano. Ingegnere, ma quando partirà questo Ufficio della ricostruzione al Parco della Scienza? Diciamo che l'Ufficio è partito al Parco della Scienza prossimamente, perché dobbiamo ancora definire l'allestimento, che praticamente fa parte del mobilio, quanto relativo alle apparecchiature informatiche. Quanto riguarda le pratiche? Relativamente alle pratiche, invece, è già partito. Le abbiamo tutte protocollate, rubricate e abbiamo dato la priorità assoluta a quelle relative alle attività produttive, quindi relativamente all'attività di delocalizzazione. Oltre a quelle relative invece agli impianti zootecnici, laddove naturalmente hanno fatto richiesta di delocalizzazione o già alla sola ricostruzione degli impianti, naturalmente, che hanno subito danni. Senti, ingegnere, c'è una polemica in città. Manca uno sportello, un front office per i cittadini. Dove possono venire? Qui al Genio Civile, intanto? Noi abbiamo allestito il nostro sito istituzionale, dal quale naturalmente ci si collega dal link del sito istituzionale della Regione Abruzzo. Lo sportello fisico c'è anche qui, al secondo piano, dove vi è strutturato il protocollo e quindi c'è un tecnico disponibile a fare URP. Intanto il sindaco Brucchi è tornato piuttosto deluso dall'incontro a Roma con il governo sul decreto sisma, che dovrà essere approvato categoricamente entro il 9 aprile. Gli emendamenti richiesti dai comuni colpiti dal sisma in maltempo, come ad esempio la zona franca, forse non saranno discussi, ma potrebbero essere inseriti in un nuovo decreto. Sì, però, tra due mesi arrivano le prime scadenze e le tasse dovranno essere pagate. Il sindaco Maurizio Brucchi sostiene che l'ospedale unico di Teramo deve essere realizzato all'interno del territorio comunale e propone di localizzarlo a Piane Sant'Atto. Per il capogruppo PD alla Regione Abruzzo, Sandro Mariani, si tratta di un ragionamento al contrario. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, risponde all'invito dell'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, che ha chiesto esplicitamente al territorio teramano di fare presto ad individuare la sede dell'ospedale unico. Secondo Brucchi, una città capoluogo di provincia deve avere nel suo comune l'ospedale di riferimento. Buona dunque la proposta del vicepresidente del Consiglio regionale, Paolo Gatti, che individua nell'area industriale di San Nicolò una possibile locazione. Altrettanto positiva è la proposta del consigliere comunale Maurizio Verna, che prevede l'insediamento di un ospedale unico nella zona in prossimità della rotonda dello stadio di Piano D'Accio. Ma il sindaco di Teramo propone un'ulteriore ipotesi in località Piane Sant'Atto. Per la Regione questi sono ragionamenti all'inverso. Bisogna prima pensare di realizzare un ospedale all'avanguardia che salvi la vita alla gente e poi decidere dove posizionarlo. Quanto è importante avere l'ospedale unico in provincia di Teramo? È fondamentale e vitale perché dopo un'attenta analisi, un attento studio, si è capito benissimo che ormai è l'unica direzione da percorrere per dare una salita di qualità e per permettere alla nostra gente di stare tranquilla, di curarsi bene e di non dover più guardare di fuori della nostra Regione. Io prima che discutere dell'ubicazione che naturalmente e giustamente è una discussione puramente politica oltre che di opportunità che non mi sfuggono, mi preme più far capire e far metabolizzare il fatto che avere un ospedale unico vuol dire avere una sanità di qualità, vuol dire essere più tranquilli, come dicevo poc'anzi, e quindi donare più senerità alla nostra gente. E dei vecchi ospedali che cosa ne faremo? Su questo appunto è in atto uno studio che riguarda i vecchi plessi che dovranno essere riconvertiti e quindi su questo c'è un'analisi attenta anche economico-sociale del nostro territorio perché questo è il vero grande tema, cioè evitare che ci siano poi delle cattedrali nel deserto. Va sicuramente individuato subito il sito e bisogna immediatamente procedere alla progettazione e alla realizzazione successiva dell'ospedale. Non possiamo perdere tempo e il tutto deve avvenire necessariamente entro i 5-6 anni. Doveva essere il debutto della nuova giunta a Brucchi a 9 assessori e invece l'ultimo Consiglio Comunale di Teramo è saltato per mancanza del numero legale. Il quorum non è stato raggiunto a causa dell'assenza di alcuni consiglieri di centrodestra che non hanno gradito l'allargamento dell'esecutivo. Non c'è pace al Comune di Teramo, anzi non c'è più maggioranza. Oggi il Consiglio Comunale che avrebbe visto schierata la nuova giunta a 9 assessori è stato rinviato per mancanza del numero legale. Alcune assenze eccellenti proprio tra i consiglieri di centrodestra non hanno fatto raggiungere il quorum necessario a svolgere la seduta e così decisioni importanti per la città slittano a fine mese. Prova un grandissimo imbarazzo per questa maggioranza. Non posso fare a nero sentiremi imbarazzata al loro posto che invece apparentemente sembra che non è impermeabile a qualsiasi brutta figura. E questo è vergognoso. A un certo punto si è arrivati a riproporre una giunta a 9 assessori quindi il massimo Consiglio della legge in questo frangene in cui siamo in una fase che lo stesso sindaco ha definito di predissesto per lo meno di fatto e l'unico pensiero è quello di tacitare le pretese di chi anche dall'alto vuole manovrare questo Consiglio questa giunta è vergognoso. L'entrata di ulteriori due assessori in giunta Alfonso Di Sabatino e Silvio Antonini non ha affatto rafforzato la maggioranza del sindaco Brucchi anzi l'ha resa fragile e traballante e la mancanza di numero legale di oggi ne è stata la dimostrazione. Il primo cittadino però spara a zero sull'opposizione. Chi è il responsabile è questa opposizione perché vuole condividere i percorsi durante le commissioni vuole condividere il piano scuole vuole dire la loro in certe situazioni poi però quando si tratta di assumersi alcune responsabilità io so bene che il numero legale lo deve garantire la maggioranza non sto dicendo questo sto dicendo però che il senso di responsabilità si manifesta sempre non solo quando fa comodo. Il sindaco accusa l'opposizione e vi accusa di non prendervi le vostre responsabilità in favore della città. È paradossale assolutamente paradossale il sindaco ovviamente sta tentando di spostare l'attenzione su un'altra questione il vero problema è che il sindaco non ha più la maggioranza in questo consiglio comunale e non è stato neppure sufficiente allargare al massimo la giunta con costi a carico dei cittadini terramani per poter avere oggi in questa prima istituzione del consiglio comunale la maggioranza. Si è svolto a Teramo il primo convegno nazionale SVETAP sul ruolo del veterinario in apicoltura l'evento è stato organizzato dall'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise dalla società scientifica veterinaria per l'apicoltura e dall'università degli studi di Teramo solo in Abruzzo ci sono circa 45 mila alveari e un numero sempre maggiore di apicoltori. A leggere gli ultimi dati sull'apicoltura in Italia si resta davvero sorpresi si calcola ci siano un milione e duecentomila alveari distribuiti nelle varie regioni 45 mila apicoltori censiti di cui 20 mila che fanno dell'apicoltura una professione o una fonte di reddito significativa. La comparsa però di nuove patologie in Europa impongono l'acquisizione di competenze specifiche da parte dei professionisti che operano in questo comparto della zootecnia. Per approfondire questi aspetti a Teramo si è svolto il primo convegno nazionale SVETAP organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise dalla Società Scientifica Veterinaria per l'Apicoltura e dall'Università degli Studi di Teramo. L'IZS di Teramo in particolare possiede un elevato livello di competenza tecnica nel settore delle anagrafi animali dal 2015 poi è stata istituita anche l'anagrafe delle api per la tracciabilità di questi piccoli animali che rappresentano un pilastro fondamentale per l'agricoltura. Quali sono le malattie che colpiscono maggiormente le api? Purtroppo le api non fanno eccezione rispetto ad altri animali e rispetto allo stesso uomo nel senso che ci sono molteplici agenti di malattia di natura molto diversa tra loro possono essere protozoi possono essere batteri possono essere virus possono essere altri insetti possono essere coleotteri pericolosi per l'uomo? No direi di no ci sono malattie direttamente pericolose per l'uomo delle api i danni possono essere indiretti nel senso che ci potrebbero essere ma è solo un'eventualità naturalmente delle contaminazioni del miele che provengono dal trattamento farmacologico che è stato fatto sulle api anche se fortunatamente non è un evento frequente. Il convegno nazionale Svetap che si è svolto all'ospedale veterinario dell'Università degli Studi di Teramo ha avuto il merito di facilitare la condivisione di diverse esperienze informazioni e metodologie tra gli operatori del settore apistico che hanno esigenze del tutto nuove alla luce del panorama normativo vigente nelle diverse regioni. Aspettando il 25 aprile a Montorio Albomano in programma una settimana di celebrazioni dal 18 al 25 aprile per commemorare i 72 anni di libertà e democrazia in Italia. L'iniziativa è promossa dall'AMPI e dal comune di Montorio in collaborazione con l'Università di Teramo. Nella storia della resistenza italiana Montorio Albomano ha rappresentato 72 anni fa una tra le basi più attive dei partigiani abruzzesi. Una tradizione di democrazia e libertà che il popolo montoriese non ha mai dimenticato e che ogni anno intende rinnovare soprattutto a favore delle nuove generazioni. Così il 25 aprile diventa l'occasione per organizzare una settimana di celebrazioni sulla cultura della resistenza organizzata dal comune di Montorio e dall'AMPI. Montorio è stata sia durante il ventennio ma anche durante gli anni della resistenza una cellula attiva di antifascismo. Sono molti i personaggi che sono stati protagonisti della resistenza e dell'antifascismo a Montorio primo fra tutti lo stesso Ercole Vincenzo Orsini che pur essendo di Teramo ha mantenuto negli anni della dittatura dei rapporti costanti con i montorriesi che purtroppo poi si sono conclusi col suo assassino proprio a Montorio. Una settimana di eventi culturali dunque dal 18 al 25 aprile a Montorio durante la quale si terranno rappresentazioni teatrali e discussioni pubbliche sui temi della guerra ai civili sulle stragi di Nermi in Italia e in Abruzzo durante la seconda guerra mondiale e a sentirli questi argomenti non sembrano poi così obsoleti visto quello che sta accadendo oggi nel Mediterraneo ma i ragazzi lo sanno che cos'è il 25 aprile? Beh si lavora soprattutto per quello l'amministrazione appoggia questa manifestazione questo aspettando il 25 proprio per quello per il ricordo per fare in modo che sia i più giovani ma anche i più grandi ricordino questo momento importante per la storia italiana. Montorio dunque quest'anno come ricorda il 25 aprile? Sarà una settimana intensa l'AMPI ci ha proposto di arrivare al 25 con due eventi noi siamo contenti di patrocinarlo e aiutarli nella realizzazione degli stessi perché con delle attività specifiche si riesce secondo me ad arrivare di più alle persone e soprattutto come mi diceva prima ai più giovani una rappresentazione triatale che parla comunque della brigata Maiella che è stata l'ultima a cedere il passo è chiaro che è un insegnamento per i più giovani è un ricordo per chi è più grande affinché si resista e ci sia sempre questa vena di resistenza nelle corde di chi vive nei nostri territori ma questo tutto il mondo soprattutto per quello che stiamo vivendo oggigiorno non si riesce a imparare proprio dalla storia A Campri di Teramo si sono ritrovati tutti gli appassionati di escursioni estreme e di quad per il consueto raduno nazionale intanto la città di Campri e Pietra Camela hanno rappresentato l'Abruzzo alla Bit di Milano dove hanno intercettato ottimi flussi turistici La città di Campri e il piccolo borgo di Pietra Camela hanno rappresentato l'Abruzzo alla Bit di Milano oltre allo stand istituzionale della regione solo queste due realtà teramane si sono presentate alla Borsa Internazionale del Turismo offrendo pacchetti soggiorno pieni di arte cultura e una montagna meravigliosa Campri è il terzo anno che va a questa manifestazione quest'anno siamo stati insieme a Pietra Camela noi lo volevamo molto quest'anno perché è successo tantissimo nel nostro territorio tra frane maltempo e terremoto quindi avevamo bisogno di far conoscere le nostre bellezze anche perché nei mesi precedenti al terremoto avevamo avuto un grosso riscontro di flussi turistici e questo è anche perché abbiamo partecipato a questa Borsa Internazionale del Turismo in cui ci sono tutti gli operatori turistici del mondo e quindi è una vetrina importante per far conoscere il nostro territorio intanto domenica 9 aprile a Campri appuntamento per gli appassionati del Quad con il secondo raduno nazionale organizzato dall'Associazione Sportiva Amfibi alla scorsa edizione hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta Italia appassionate di fuoristrada ed escursioni estreme Grazie di essere stati in nostra compagnia io vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro responsabile formazione del gruppo Consofon Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che un giovane può cogliere diventando agente in attività finanziaria Buona serata e ci vediamo la prossima settimana Ciao